Una semplice partita di plunder in amicizia per rilassarsi Per rilassarsi, no stress e minchiatevare No stress Chill Con i miei teammates Voi hai visto ci siamo dati il pugno pure per dire ragazzi andiamo Vediamo dove vuole andare Quello vuole camperare, io non voglio camperare Vai facciamolo contento Come si sale sopra? Enemies dropping into the AO You are now marked as most wanted Eyes on a swivel Hostile dropping into the area, watch the skies No joy Hostile dropping into the area, watch the skies I'll be dropping into the area corsile dropping into the area You are back and fighting I will have my revenge oh shit Ma i miei amici dove sono in tutto questo? Cazzo sono affari, sono a toccare là sopra Dobbiamo fare soldi, questi si toccano Ma io con loro non ci sto sicuro Ma voglio vedere che qual è la loro strategia Di gioco What the fuck Quindi se ci andiamo a mettere là sopra è una buona posizione, non ho capito Perché sono là Vai farmiamo kill Vediamo Oh, oh guys, wow, this is sick What the fuck Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, ci sta distraendo Ci ha distratto Per far atterrare qualche suo amico Dove è? Ok E' tipo una base Vogliono assaltare tutti sto post Robi Ok, ok Aiuto Sorry shit, arrientrare Oh Robi Non c'è nessuno ragazzi Possiamo tornare a camperare come la merda Oh Quella ce n'è uno Ah Ah Aiutatemi Sono morendo Oh 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 Sta avvenendo Sta avvenendo Uh Ha ucciso a tutti Vabbè possiamo ritornarci quindi Wow Abbiamo perso tutta la posizione Era divertente Era divertente però quel posto Io Io direi però di provare qualcosa Cos'altro No Lo stiamo depositando un cazzo Depositiamo qualche cosa Reposizione Reposizione Solid copy Perlare 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 Ah, non sai fare un muretto, eh? Che cazzo sei? Ah, non c'è qua. Oh, va, diritto... Ah, non si scelgono niente. Aiutatemi! Almeno abbiamo messo qualche cosa. Quello c'ha... Oh, sta depositando l'ira di Dio quello. Bravo, almeno... Almeno quello. Adesso mi piaci. Teammate, adesso mi piaci. Let's go. Let's go, man. Oh, bronze, siamo arrivati bronze. Non male, non male. Una partita bella tranquilla fra amici. Questo è quello che potete aspettarvi quando non gioco Battle Royale e provo a vincere i match. Tranquillità e amicizie. Sì, sì, sì. Allora. Allora.